Ehi, ferma, ferma, ferma! Jen, guardami! Scusami per quello schiaffo. Non volevo farti del male, sono solo molto stressato. Ti domando scusa, ho perso il controllo. Dammi il tuo cellulare. Dammi quel cazzo di cellulare! Eccolo! Chiamo l'elicottero, così la facciamo finita. Questo è un grandissimo casino. Salve, Roberto, sono Richard, come sta? Io benissimo, grazie. Eravamo d'accordo che veniva a prenderci alle due e mezza. Sì, in realtà vorremmo anticipare. Sì, appena possibile. Perfetto. Ok, grazie. Sarà qui, fra una trentina di minuti. D'accordo. D'accordo.